buongiorno a tutti benvenuti in anafi j questo è l'appuntamento del mercoledì oggi come sapete parleremo del UAM vi ringraziamo tutti per esserci vi ricordiamo che l'incontro va in diretta su facebook e che contemporaneamente registriamo la puntata nel caso in cui sia necessario lo volete vedere nel nostro canale youtube prossimamente eh Maurizio eh prima di tutto prima di iniziare vogliamo ringraziare i nostri testimonials Sergio e Adriana che eh gentilmente hanno eh fatto il video di propaganda per per l'incontro di oggi e abbiamo scelto loro che sono eh da lunghi da lungo tempo dei utilizzatori del servizio UAM ok quindi ri buongiorno a tutto a tutti grazie Raffaele una piccola premessa come avrete visto dai messaggi eh che abbiamo mandato nei nei giorni scorsi sia attraverso il nostro sito sia attraverso la pagina Facebook siamo in un momento in cui stiamo ci stiamo adeguando per migliorare le nostre attrezzature informatiche sia in termini di comunicazione che di potenza di potenza elaborativa come sempre quando ci sono questi cambi che abbiamo provato a terminare nel weekend scorso c'è sempre qualche strascico che purtroppo ha bisogno di un po' più di tempo per essere adeguato e per e per ritornare alla piena operatività e per questo che quindi da sabato prima è stato interrotto il servizio di tutti i servizi online che abbiamo tra domenica e lunedì abbiamo ricominciato a riattivare i servizi e purtroppo e me ne scuso pubblicamente con tutti gli utilizzatori abbiamo ancora una parte di servizi che eh non sono ancora ritornati operativi e parlo dell'inserimento delle analisi genomiche della tracciabilità e di altre cose che non sono pienamente operativi per via di eh una diciamo diciamo moltiplicazione di degli indirizzi pi che il nostro provider deve finire di sistemare quindi c'è ancora qualche piccolo intupo che speriamo di risolvere di risolvere di risolvere a breve i servizi che già che già invece sono ripartiti tra e tra questi UAM ogni tanto hanno ancora qualche piccolo problemino proprio stamattina su UAM ci siamo accorti eh che c'era un altro un altro piccolo problemino quindi siamo arrivati un po' in affanno a a questa diretta io spero che vada tutto bene in caso contrario parlavamo con Raffaella prima e eventualmente se non riuscissimo a a fare la parte pratica teorica e laborativa vedremo di recuperare di recuperarli in un'altra in un in un'altra occasione. ogni tanto per venire in conto a tutti gli utilizzatori del UAM che l'hanno che l'hanno utilizzato e che non sono riusciti a utilizzare in questo ultimo periodo abbiamo deciso di prolungare in automatico quella che è la durata dell'abbonamento di un anno in più a tutti per venire incontro a questi piccoli disagi che abbiamo avuti in questo periodo. prima di passare alla parte pratica volevo un attimo parlare di qual è la filosofia che c'è dietro al nostro piano di accoppiamento intanto la filosofia di vedere la genetica non solo come un costo cioè io compro delle fiale quindi ho una voce che in rosso nel mio bilancio aziendale ma anche come un investimento in quanto ogni investimento in genetica in genetica se fatto bene andando per obiettivi dovrebbe essere un investimento che mi garantisce un incremento del profitto e quindi un ottimo ritorno aziendale. Come vi dicevo è importantissimo avere degli obiettivi che dipendono da tante cose dall'indirizzo produttivo, dall'associazione di mercato e da altre cose ancora che andremo a vedere e soprattutto ricordiamoci sempre che i tempi della genetica sono molto lunghi e che un eventuale errore lo si riconosce solo dopo molti anni. Quindi è importantissimo partire e pianificare bene un investimento in genetica e avere ben chiari quelli che sono i propri obiettivi. Su quali indici usare? L'abbiamo già detto tante volte. Oggi per ogni riproduttore sono disponibili una miriade di indici sviluppati nei paesi dei quali probabilmente il toro ha origine. Noi continuiamo a ripetere e a ritenere che per la situazione italiana gli indici sviluppati in Italia, qui abbiamo messo quelli che sono i nostri tre più importanti in base ai nostri individui selettivi, siano quelli più adatti perché sono stati calcolati e elaborati tenendo conto delle reali situazioni produttive ed economiche della zootecnica italiana. Quindi come a Nafige ci siamo presi l'impegno di rendere disponibile per tutti i riproduttori autorizzati in Italia gli indici su scala italiana e il nostro piano di accoppiamento lavora sia per la parte femminile che per la parte maschile su questi indici calcolati sulla base della nostra realtà zootecnica. Un'altra parte importante quando si va a effettuare un piano di accoppiamento è sicuramente quello di verificare la genetica della propria mandia. Se non sappiamo su che animali stiamo lavorando non possiamo prendere le decisioni giuste per migliorare eventuali punti deboli e soprattutto ricordiamoci sempre che non si riesce a migliorare ciò che non si misura. Se io non riesco a capire da che situazione parto, non riesco a verificare a posteriore se il lavoro che ho fatto mi ha portato effettivamente un miglioramento all'interno della mia mandria. Quindi la scelta per la quale il piano di accoppiamento è sicuramente utile è quella di dire quali tori per quali vacche e le variabili sono sicuramente importanti quando si va a scegliere un riproduttore perché oltre all'individuo generale di miglioramento sulla quale vogliamo portare la nostra mandria dobbiamo anche tenere conto, il livello di accoppiamenti singoli, tante altre caratteristiche qua è la consaguinità, i geni eccessivi, gli aplotipi, gli accoppiamenti correttivi se ho una vacca scarsa mammella dovrò cercare su questo animale di utilizzare tra i tori che ho scelto un tori che mi vada a migliorare questo elemento scarso nell'animale e così via. Quindi sono tutte delle caratteristiche molto importanti, molto difficili da considerare nel momento in cui sono di fronte al mio animale e devo decidere che tori utilizzare ed è per questo che come anafigei abbiamo messo a disposizione dei nostri allevatori di questo piano di accoppiamento che è disponibile sia nelle versioni web che il WAM che è quello del quale parleremo oggi ma vi ricordo che per coloro che volessero continuare ad avvalersi dell'assistenza dei nostri tecnici, dei nostri ispettori che sono convenzionati con noi abbiamo sempre a disposizione lo strumento del webpack che prevede la presenza del tecnico in azienda con il quale potete eventualmente sviluppare il vostro piano di accoppiamento. Il motore di accoppiamento è sempre quello quindi diciamo i risultati che si ottengono sono praticamente simili e confrontabili, la differenza che il WAM vi rende autonomi nelle vostre sette mentre invece con il webpack avrete anche la consulenza di un nostro tecnico per discutere dei vostri miglioramenti e dei vostri programmi di miglioramento selettivo. Quindi oggi vi parleremo del WAM che è la consulenza di Web AnafiMate quindi piano di accoppiamento AnafiJail sul web quali sono le caratteristiche che lo contraddistinguono? Intanto una grossa flessibilità informatica abbiamo dei dati aggiornati in tempo reale che prendono informazioni da tutta quella che è la base dati del sistema allevatori non vi è nessun software da installare e soprattutto è possibile utilizzarlo da più device uno può sviluppare il proprio piano da un pc, da un portatile, da uno smartphone o da un laptop quindi c'è la massima flessibilità informatica di utilizzo e di fruibilità di questo tipo di servizio. Vi ha anche una buona flessibilità tecnica abbiamo provato a rappresentare come un sarto che ritaglia un abito su misura sulla propria mandora è possibile quindi andare a definire degli indirizzi di miglioramento selettivi propri tarandoli sulla propria mandora, sul mercato su quale andremo a operare sull'indirizzo produttivo e quindi sugli obiettivi che io voglio andare a migliorare nella mia manda quindi vi è la massima flessibilità e la massima possibilità di personalizzare i propri obiettivi di selezione. Parlando sempre di flessibilità tecnica vi ricordo che il WAM così come anche il Webpack effettua tutti gli accoppiamenti correttivi e l'ottimizzazione degli accoppiamenti utilizzando tutte le informazioni genomiche sia dei tori che delle femmine quando sono genotipizzate quindi è un vero e proprio accoppiamento di tipo genoma che usa tutte le informazioni che si riescono a ricavare dal DNA in seguito alle genotipizzazioni. abbiamo parlato di un controllo della consanguinità quindi più accurato il controllo della consanguinità più accurato anche il controllo che si riesce a fare su aplotipi e generi eccessivi il nostro strumento attingendo direttamente alla base dati del sistema allevatore lavora con 20 generazioni per quello che riguarda i maschi e con 10 generazioni per quello che riguarda le femmine quindi provate solo a immaginare la moltitudine di dati che vengono presi in calco dal nostro sistema quando vanno a elaborare un piano di accoppiamento credo che questa sia una delle caratteristiche che contraddistinguono il nostro sistema unito al fatto che è un programma che ha in calco tutti i tori autorizzati alle FA in Italia italiani e esteri e di tutti i centri che operano in Italia quindi è un programma che vi rende assolutamente indipendenti nella scelta nel riproduttore quindi potete svilupparlo in completa autonomia potete se volete appoggiarvi a un vostro consulente facendo utilizzare lo strumento insieme a voi potete comunque sempre utilizzare i nostri tecnici quindi c'è la massima flessibilità dal punto di vista dell'utilizzo come si accede all'UAM tramite il sito della NAFI utilizzando la stessa utenza sia che già nei servizi ANFI.J utilizzati per accedere alla scheda genealogica, all'ERDAP o al PGA a differenza di questi servizi che sono già inclusi nella quota di iscrizione al libro genealogico in questo caso bisogna invece chiedere un'abilitazione perché l'adesione al servizio UAM richiede un costo anno extra rispetto alla quota soci come vedete qua sono costi che noi ritemmiamo abbastanza accessibili sono stati debisi in base alle fasce delle bacche presenti in latazione vanno da un minimo di 35 euro un massimo di 150 euro tenete conto che con questa cifra voi avete la possibilità per un anno di elaborarvi tutti i piani in completa autonomia anche una volta alla settimana quindi massima flessibilità anche come tempi di utilizzo Raffaella, sei continuato intanto prima di passare alla parte pratica quello che volevamo anche parlarvi per quanto riguarda la Jersey abbiamo anche a disposizione un piano di accoppiamento Jersey che comunque attualmente non è ancora online ma è un piano che viene rilasciato contattando direttamente l'ufficio FA e su richiesta viene fatto un piano di accoppiamento come dicono appunto le slide questo piano è attivo da febbraio 2016 quando l'abbiamo messo sul sito questa informazione è stata riportata sul portale della razza Jersey italiana dove ci sono tutte le news e anche sulla rivista Bianca e Nero come ogni volta ci sono delle novità queste vengono riportate Mauri vai avanti questo è un esempio appunto di un piano di accoppiamento per la Jersey che viene fatto e viene gestito direttamente da Giovanni Micheli e vi abbiamo messo anche la posta elettronica così lo potete contattare se avete bisogno di questo tipo di piano tornando all'UAM per quanto riguarda le prospettive future già ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto la diretta il 30 dicembre un altro degli strumenti che entrerà a far parte del UAM è appunto questo progetto Rimonta che è un progetto pieno seguito da Valentina Ferrari che sta sviluppando questo strumento all'interno del suo dottorato di ricerca infine quello vi volevamo dire appunto che stiamo organizzando dei tutorial che verranno pubblicati prossimamente sul nostro canale YouTube NafiJ e stiamo anche pensando a fare dei corsi online per quanto riguarda inizieremo appunto con UAM ma anche per tutti i nostri altri strumenti quindi questo per quanto riguarda tutta la parte tecnica che riguardava il piano di accoppiamento e ora Maurizio penso che cercheremo sto cercando di sto incrociando le dita e non vi dico nient'altro e non vi dico per vedere se tutto funzioni alla perfezione allora dal sito della Nafi una volta che avete chiesto le credenziali che vi siete accreditati che vi abbiamo dato accesso vi ricordiamo che vi forniamo anche una piccola guida online che comunque siamo sempre disponibili per dare consulenza e tutto si entra nella home page del piano di accoppiamento come ogni volta ringrazio l'azienda di Cesari Pietro di Parma che gentilmente mi dà sempre il consenso ad utilizzare la sua stalla per fare queste dimostrazioni per andare a fare un piano basta andare nell'opzione nuovo digitare il codice AUA se avete un'utenza che gestisce più aziende nel caso invece abbiate un'utenza legata a una singola azienda comparirà già in automatico il vostro codice con l'intestazione aziendale cliccando su codice in questo momento il sistema recepisce in automatico tutte le informazioni dei propri animali quindi le famose 20 generazioni per i maschi 10 generazioni per le femmine e così via e a questo punto si tratta di andare a configurare il proprio piano vado velocemente che magari riusciamo anche a fare un piano un paio di di simulazioni per far vedere come il piano risponde a certe sollecitazioni e magari lasciamo anche spazio a domande o a richieste la prima cosa da fare è decidere l'indirizzo produttivo generale al quale io voglio appoggiarmi abbiamo 4 indirizzi produttivi PFT IAS XPR e tipo l'azienda di Cese è di Parma zona Parmigiano-Novezzano quindi seguiamo un obiettivo di ottimizzazione per XPR che è l'indice di calificazione e sostenibilità seguiamo su che tipi di tori vogliamo utilizzare seguiamo che non voglio solo tori italiani ma tutti i tori disponibili seguiamo che non voglio solo tori probati ma tutti i tori ho provato genologiche che verranno scelti in base ai criteri di ottimizzazione che io andrò a dire al mio programma e poi posso andare a configurarmi come vi dicevo prima come se fosse un sarto a ritagliarmi a immagine e somiglianza dei miei obiettivi e della mia mandera i miei obiettivi di miglioramento per ogni obiettivo o carattere abbiamo delle fasce che vanno da 0 a 100 se lascio a 0 vuol dire che lascio fare al programma in base alla mia mandera e l'obiettivo che io do se io invece do un peso che è via via progressivo da 0 a 100 riesco a dire al programma che voglio che lui tenga conto di questo carattere quando va a scegliere i riproduttori mi ottimizzerà il pool di riproduttori che mi va a scegliere tendo conto di questo obiettivo generale se io metto prezzo per esempio 40 dico al programma che voglio stare in una fascia media di acquisto come 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 dosi di seme come vi ho detto prima siamo in zona parmigiano-reggiano voglio dare importanza al fatto che ci siano molti torri con un'alta frequenza di K calzeina B quindi vado a mettere un'importanza un peso di 40 nella K calzeina poi ho tre blocchi produzione funzionalità e morfologia all'interno di ognuno di questi tre blocchi posso andare a scegliere un singolo indice il quale voglio dare più importanza nella scelta dei 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 torri per esempio posso decidere che voglio dare più importanza alle percentuali di proteine ad esempio segliamo un peso di 20 oppure 30 andando nella funzionalità voglio dare importanza al miglioramento genetico nelle cellule quindi diamo un peso di 30 anche per le cellule voglio dare enfasi al miglioramento per la fertilità quindi diamo un peso di 30 anche alla fertilità che cosa vuol dire dare questi pesi vuol dire che all'interno di un'ottimizzazione per indice XPR i tori che lui mi andrà a scegliere saranno scelti all'interno dei migliori per XPR ma dovranno anche rispondere a questi obiettivi di miglioramento che io mi sono mi sono dato dare obiettivi di miglioramento non vuol dire filtrare a priori un toro perché io posso avere un toro eccezionale per tutte le caratteristiche essere magari appena sotto a una soglia che io ho impostato per un determinato carattere in un criterio di ottimizzazione questo toro ci può stare a patto che la media il gruppo di toro che io scelgo vada verso la direzione che io ho individuato quindi importante come dico sempre non guardare mai il singolo toro ma andare a vedere la media del gruppo come si sposta se risponde ai miei obiettivi andando invece alla parte legata alla morfologia abbiamo fatto nelle scorse dirette tanti discorsi legati alle problematiche attuali della fisura italiana in particolar modo quelle legate o alla dimensione dei capezzoli o alla posizione dei capezzoli quindi voglio provare a tenerne conto anche in questa fase quindi dico al mio programma che voglio dei tori che non abbia dei capezzoli troppo corti quindi vado a scegliere i caratteri dimensioni dei capezzoli e gli do un peso ad esempio di 40 vado a selezionare i capezzoli posteriore e in questo caso vedete essendo un problema della razza che i capezzoli tendono ad essere troppo ravvicinati invece di dare un peso che va verso il positivo do un peso che va verso il negativo in quanto mi devo spostare verso sinistra se noi immaginiamo il grafico che rappresenta gli incidatori voglio avere dei tori che abbiano dei capezzoli non troppo ravvicinati quindi do un peso negativo di meno 30 io ho impostato il mio programma generale andando nella parte della mandria ho la possibilità non abbiamo il tempo di entrare nei dettagli ma di fare un piano solo sulle vacche su tutta la mandria solo sulle manze ho la possibilità di andare a escludere alcuni gruppi di animali per esempio posso decidere di non fare un piano sulle animali che sono già gradi quindi mi concentro sui animali che andrò effettivamente a fecondare nei prossimi nei prossimi mesi posso decidere di escludere le pluripare se decido che sono animali vecchi uso il toro da carne e mi concentro solo su alcuni su alcuni animali quindi posso decidere di fare di ritagliare come vi dicevo il mio piano sulla mia mandra una volta che ho deciso i filtri sulla mia mandra che io vado ad applicare mi salvo le mie impostazioni un'ultima cosa forse che è importante dire posso decidere quanti tori voglio che mi escano nel mio piano di accoppiamento il consiglio che noi diamo diamo sempre di mettere un numero di tori che è più alto rispetto a quello che uno vorrebbe effettivamente utilizzare vede il risultato e poi come vi farò vedere dopo rifarsi un piano di accoppiamento in cui si possono andare a inserire singolarmente i tori che io ho effettivamente dentro al mio al mio contesto quindi il piano si può utilizzare in due modi da un lato intanto salvo e do inizio alla elaborazione come vi dicevo il piano si può utilizzare in due modi da un lato lo posso utilizzare come informativa quali sarebbero i tori più adatti alla mia mandria poi faccio tutta una serie di considerazioni che vanno dalla disponibilità del toro dal prezzo di acquisto dal fatto che ci sia o meno un rappresentante che mi viene a portare a casa i seme nel tempo che io ho stabilito acquisto quindi direttamente i seme che io voglio quando ho nel mio contenitore tutti i tori che io voglio posso fare un piano di accoppiamento inserendo solo ed esclusivamente i tori che io ho nel mio bisogno quindi che ho preselezionato in base ai suggerimenti che mi ha dato prima quindi diciamo che un buon lavoro è sempre questo utilizzare il piano per fare uno screening per vedere quelli che sono i tori più adatti alla mia mandra poi andare successivamente a vedere se ci sono quali tori cioè sono disponibili in base alle mie esigenze a quelli che ho impostato dentro la mia mandra e anche eventualmente la mia disponibilità economica e successivamente andare a farmi un piano con i solitori che ho inserito dentro al mio contenitore questa è un po' la logica che dovrebbe portarci a fare un piano di accoppiamento in maniera da potercelo ritagliare correttamente in base alle esigenze nostre elaborative intanto che il sistema elabora chiedo a Raffaella se c'è qualche domanda qualche qualche richiesta al momento no ok intanto quindi che il sistema elabora vi ricordo che stiamo vivendo questa fase di diciamo migrazione dei nostri sistemi in una server farm più potente dal punto di vista elaborativo quindi io spero che al di là dei problemi che abbiamo avuto negli ultimi 15-20 giorni che spero che andiamo a risolvere a breve dovremo riuscire a fornire un servizio sempre più efficiente a chi si approccia all'utilizzo di questo tipo di strumentazione purtroppo oggi l'elaborazione come vi dicevo è un po' più lunga del solito perché abbiamo avuto questi problemi in mattinate che ci hanno reso abbastanza difficile arrivare diciamo puntuali all'appuntamento di oggi quindi spero che di riuscire a sbloccare come si dice in gergo la situazione i nostri tecnici i nostri collaboratori informati stanno stanno lavorando purtroppo come vi dicevo non è solo un problema che possiamo risolvere noi ma è un problema del provide che ci fornisce che ci fornisce il servizio che sta finendo di mettere a punto tutte le elaborazioni quindi c'è questa fase di diciamo impasse che non riusciamo a risolvere a breve ok l'elaborazione è terminata a questo punto andando nella parte del report andiamo a vedere quello che è il risultato che lui è riuscito a ottenere partiamo da quelli che erano gli obiettivi che io gli avevo chiesto se vi ricordate gli avevo chiesto di dare molta importanza alla K caseina B e vedete che abbiamo un 84% di presenza di K caseina B all'interno dei reputori che il sistema mi ha selezionato abbiamo una media di XPR di quasi 1.580 io direi molto importante infatti abbiamo dato molta enfasi a questo indice abbiamo detto di prestare molta importanza alla percentuale di proteine abbiamo una media del gruppo dei tori di 0.22 quindi anche in questo caso il programma ha tenuto conto delle informazioni delle richieste che io gli ho dato gli avevo detto di dare particolare enfasi alle cellule infatti abbiamo una media di 114 alla fertilità abbiamo infatti una media di 115 tenete conto che riuscire a fare un miglioramento sia per fertilità che per percentuale di proteine non sempre facile tenendo conto delle collazioni negative che esistono tra questi due caratteri se vi ricordate avevo chiesto al programma di prestare particolare attenzione alla dimensione dei capezzoli e alla posizione dei capezzoli posteriore e anche in questo caso mi sembra che il programma abbia in qualche modo risposto alle mie aspettative la media dei tori che io ho scelto è molto vicino allo zeo sia per riguardo i capezzoli posteriori sia per quello che riguarda le dimensioni dei capezzoli quindi siamo riusciti credo ad avere un buon equilibrio tra quello che io avevo chiesto e quello che il programma mi ha dato non mi piace questa prima elaborazione che è uscita non mi soddisfa per esempio vedo che è troppo basso il miglioramento a indice al latte io posso andare ancora nella mia configurazione magari dare un po' di peso al latte vorrei ancora un po' più di miglioramento per quanto riguarda la dimensione dei capezzoli quindi vado a dare ancora un peso alla dimensione dei capezzoli mi risalvo queste che sono queste mie nuove configurazioni e rilancio l'elaborazione purtroppo i tempi non saranno velocissimi intanto comunque ritorniamo a vedere quella che è diciamo la stampa che vi ho fatto vedere prima vengono sempre riportate le indicazioni dei tori quindi il nome corto il cross il centro dfa che lo commercializza riportiamo tutte le informazioni genetiche per quello che riguardano i tori compesi anche le k caseine e le beta caseine a 1 a 2 vengono riportati tutti gli indici morfolodici singoli in maniera che l'utente possa verificare che tipo di riproduttori sono stati scelti e molto importante secondo me andare a vedere quelle che sono le medie dei riproduttori che sono uscite in questo tipo di elaborazione quindi io direi che è una stampa molto utile molto facile da vedere e che si può fluire in maniera molto molto facile intanto che il programma sta continuando a elaborare avevo un'altra versione da un'altra parte per farvi vedere velocemente le altre stampe che si ottengono una molto utile è quella purtroppo un attimo che è uscito come vi dicevo oggi se riusciamo a arrivarci alla fine ok intanto che elabora vedo che qui dovrebbe aver finito l'altra elaborazione provo a rientrare ok e questo è l'esempio dalla parte di test che vi ho fatto vedere prima scusate ma questo è l'ambiente di test portate pazienza ma oggi Raffaella ci sono domande intanto oppure no ricordiamo che chi vuole può fare domande sia direttamente qui oppure poi ci può mandare un'email e poi noi rispondiamo allora volevo semplicemente farvi vedere le differenze che ci sono state tra i riproduttori che sono usciti nel primo gruppo e quello che invece è uscito adesso se vi ricordate vi era una media a latte di poco più di 600 aumentando il peso al latte sono riuscito ad arrivare quasi a 1000 ho aumentato addirittura quella che è la mia percentuale di presenza di K caseina a B sono arrivato quasi al 92% avevo chiesto di dare ancora più di enfasi al carattere e dimensione dei capezzoli se vi ricordate eravamo leggermente negativi adesso siamo ritornati intorno allo zero quindi vedete come agendo sui pesi come vi ho fatto vedere prima cambiano chiaramente i riproduttori cambiano le percentuali di utilizzo di questi riproduttori che vengono consigliate all'interno del piano uno può continuare a fare prove fino a che riesce ad adattare la procedura alle proprie esigenze aziendali come vi dicevo prima ultima cosa prima di chiudere una volta che ho individuato i riproduttori che sono veramente quelli giusti per la mia mandi io non faccio altro che andare nella sezione tori ho la possibilità con gestisitori di inserire prima c'è un ottalato sigillo per dire ne ho comprate 20 dosi poi mi ricordo che c'era Geyser ne ho comprate altre 20 dosi io posso andare avanti riempendo tutti i tori che ho effettivamente nel mio contenitore faccio chiudi faccio salva rifaccio un'elaborazione e il piano di accoppiamento mi verrà fatto solo ed esclusivamente sui tori che io ho deciso di utilizzare in questo piano vi dicevo prima lo posso fare solo sulle manze solo sulle vacche lo posso anche fare una volta al mese ogni volta che vengono diciamo aggiornate la presenza delle vacche quindi credo che sia una cosa molto flessibile vedo Valentina quindi sì Maurizio buongiorno a tutti intanto c'è una domanda da Enio Colassante che chiede se si può fare una scelta dei tori e lanciare il programma selezionando solo l'azienda di seme perché se lancio il programma senza mettere il nome del toro il programma mi mette solo tori di un'azienda italiana allora probabilmente l'utilizzo è questo intanto andando in configurazione tu puoi scegliere se lavorare solo su tori italiani o tirando via la spunta decidi di lavorare su tutti i tori italiani o destri andando a decidere il tipo di toro se è provato se è genomico o se è tutti poi dopo nella sezione tori come vi ho detto prima oggi non c'è il tempo ma come diceva come ha ricordato Raffaella sicuramente faremo dei corsi online mirati ai utilizzatori c'è la possibilità di andare a decidere su quali centri appoggiarsi di default tutti i centri sono stati abilitati quindi il programma va a pescare all'interno di tutti i centri che hanno tori autorizzati all'FA in Italia se io decido che voglio appoggiarmi solo a qualche centro posso o cliccando qua li vado a escludere tutti e mi vado a riattivare quelli che mi interessa andare a riattivare oppure posso decidere di lasciarli tutti e di andare a escludere solo qualche centro col quale o non ho intenzione di lavorare o per qualche motivo non c'è per esempio il rappresentante nella zona della mia manda quindi in questo modo io posso anche decidere di lasciare attivo solo un'azienda di semi quindi riesco a farmi il piano solo con quell'azienda che io ho deciso di affidarmi ricordo che si lavora sempre solo ed esclusivamente sulla base degli indici italiani grazie ci sono altre domande? io direi che non vale la pena andare andare troppo oltre nella spiegazione a grandi linee io credo che vi abbiamo fatto vedere quelle che sono le possibilità di utilizzo e la fruizione che si può avere vi ricordo che il costo come vi avevo detto anche prima non è altissimo tenete conto che è l'abbonamento che vi dura un anno quindi vi dà la possibilità di farvi tutte le elaborazioni che volete anche più volte al giorno più volte alla settimana quindi io credo che la possibilità che voi avete di lavorare direttamente con la genetica della vostra Amanda sia comunque molto molto importante prima di salutarvi Raffaella se ricordi il prossimo appuntamento e la nuova cadenza che avremo con le nostre dirette sì allora da questo mese dal 2021 abbiamo deciso che faremo appuntamenti ogni 15 giorni quindi la prossima diretta la facciamo il 27 di gennaio e parleremo di qualità dei dati quindi l'importanza dei dati nella valutazione genetica anche per un programma di miglioramento genetico e in questo intervallo quindi mercoledì prossimo pubblicheremo sicuramente un video sugli indici genetici e anche come leggere gli indici negli altri negli altri paesi nelle scale degli altri paesi perfetto quindi dirvi Raffaella ancora un ringraziamento ad Adriane e Sergio che ci hanno fatto un po' da traino in questa diretta mi scuso ancora per tutti gli inconvenienti che ci sono stati in questo ultimo periodo che purtroppo ci potranno ancora essere avete visto anche prima il solito in Gippo prima della diretta d'altronde è successo anche la Microsoft che sono super professionisti capiresti non poteva succedere anche ai dilettanti allo sbaglio della 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 però insomma io credo che siamo riusciti comunque a rimettere in piedi quasi tutto e vi chiedo comunque di contattarci di contattarmi se qualunque trovate qualche malfunzionamento negli applicativi che abbiamo vi abbia riattivati in questi giorni ancora un ringraziamento e contattateci se volete sapere di più su come dire sui costi e sulle modalità c'è anche una mail che è www.wam.nafi.it oppure potete scrivere direttamente alle persone grazie e buona giornata arrivederci grazie 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 grazie